In occasione della giornata internazionale del 10 dicembre, il Comitato Diritti Umani del Consiglio regionale ha promosso la realizzazione di un docu-film, Todo Cambia, del regista Alessandro Avataneo. Volti di ogni età, provenienza, estrazione sociale, incontrati nelle scuole, sulle strade, nei negozi, rispondono alla domanda che cosa sono i diritti umani. Il tutto accompagnato dalla musica dell'orchestra e coro per la pace, Pequena Suellas. C'era un tale che tanti anni fa è morto già, e questo era il famoso Gino Bartali, diceva che qui è tutto da rifare. Che cosa sono i diritti umani? Sono diritti che vanno rispettati da tutte le persone del mondo, come ad esempio essere liberi, stare bene, crescere tranquilli. andare a scuola, giocare anche, essere liberi di dire quello che si pensa, e anche uscire di casa senza che ci cadda una bomba in testa. Ma io direi la mia, ma non so se faccio bene. Prima di avere dei diritti bisognerebbe essere umani.